Ma cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te? C'è qualche cosa di diverso adesso in me Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te Perché l'amore che non c'era adesso c'è Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te Perché l'amore che non c'era adesso c'è Eccoci dunque di nuovo insieme con una nuova puntata del caffè di TRG Questa mattina coinvolgiamo un'associazione importante del territorio eugubino Ma direi anche di quello umbro Perché parliamo della Gubbio Soccorso Un'associazione attiva ormai da quasi 30 anni Con chi ne parliamo? Ovviamente con il presidente Gianmarco Serbassi Ben trovato presidente, grazie per la disponibilità Buongiorno Ludovica, grazie a te per l'invito Ci siamo visti anche alcuni giorni fa per la conferenza Del progetto Muoversi e non solo Nell'ambito di Gubbio Soccorso Siamo un po', come dicevamo l'altro giorno Siamo un po' in una fase di rafforzamento dell'associazione E il progetto Muoversi e non solo È uno di quei tasselli che ci serviva per fare questo passo in avanti Quest'ulteriore step e di Muoversi e non solo Parleremo fra poco perché poi è questa la novità Che riguarda l'associazione Gubbio Soccorso Che è un'odv attiva come detto sul territorio Gianmarco ormai da quasi 30 anni Quindi insomma numeri importanti alle spalle E altrettanti numeri importanti vuole fare anche guardando al futuro Ma che tipo di servizi offre? Per chi non vi conosce magari riepiroghiamo anche di che cosa si occupa l'associazione Assolutamente, siamo nel 29esimo anno di attività E lo scorso anno, a fine anno, abbiamo rinnovato il consiglio di amministrazione Insieme a me ci sono altri 4 consiglieri Aiutati dai due ex presidenti Che tuttora sono i primi volontari dell'associazione Noi Gubbio Soccorso fa due grandi tipi di attività Trasporti sanitari e sociali Ed è un'associazione di volontariato Una Ollus Attiva da molti anni Che sta dando, ha sempre dato tanto alla comunità del territorio egubino Ma non solo In tutta la regione Umbria siamo attivi con i trasporti Qualcosina facciamo anche fuori regione Fuori regione E diamo magari anche qualche numero proprio che ci fa capire Ci da subito concretezza dell'impegno della vostra realtà Se non sbaglio solo per l'anno scorso abbiamo parlato di 12.000 servizi Assolutamente, 12.000 servizi in un anno Che comportano circa 300.000 km in un anno Quindi sono tantissimi Questo lo facciamo grazie al preziosissimo aiuto dei volontari Che a loro volta danno una mano poi a quelli che sono dei veri e propri dipendenti L'associazione oggi ne ha 7 Perché nel corso degli anni è cresciuta E quindi avevamo bisogno comunque di garantire una presenza fissa di persone Però i volontari sono rimasti E danno una grande mano ai dipendenti Perché i servizi sono non solo molti Ma spesso arrivano anche all'ultimo momento le richieste Quindi quello che riusciamo a programmare nella giornata bene Ma poi quando succedono variazioni Nel tardo pomeriggio è veramente difficile coniugare persone e mezzi a disposizione Ecco perché il progetto Muoversi e non solo Va ad aggiungere una pedina fondamentale Nel facilitare proprio la programmazione della giornata Ecco questo progetto è stato presentato come vediamo proprio dalle immagini Che ci sta proponendo la regia Negli scorsi giorni Nella sala degli stemmi di Palazzo Pretorio a Gubbio È un progetto che in effetti ha il patrocinio del comune di Gubbio Ma che è realizzato in sinergia con un'azienda di Arezzo Che si chiama Eventi Sociali È questa azienda che si è proposta a voi come Gubbio Soccorso Per cercare di rispondere a una vostra esigenza Cioè quella di rinnovare per così dire il parco mezzi Perché ormai insomma di ore di volo direi Di ore di chilometri alle spalle ne avete tanti I servizi aumentano perché molte persone che a voi si rivolgono Sono evidentemente anziani Gli anziani nella nostra regione stanno aumentando E quindi cercavate proprio di avere un nuovo mezzo Ecco ci sarà nei prossimi mesi una donazione di Eventi Sociali SRL Ma come ha funzionato questo incastro tra associazione, azienda e anche patrocinio del comune? È un incastro, l'hai detto bene Dove l'azienda Eventi Sociali fa da collante di fatto Ci siamo incontrati con Eventi Sociali a fine anno Così riassumo un attimino il progetto di cui abbiamo parlato in comune Due giorni fa Loro si occupano di contattare le aziende del territorio Principalmente di Gubbio Chiedendo un contributo Con quel contributo di fatto noi prenderemo il brand di quell'azienda E l'andremo a collocare su un mezzo come sponsor Sono quei mezzi che molti di voi vedranno in giro con i vari brand sulla carrozzeria Dedicato a ogni azienda che ha fatto parte del progetto Quando i contributi saranno tali da poter completare il mezzo Ci verrà consegnato Ci verrà consegnato in comodato d'uso per 4 anni Completamente a titolo gratuito per noi Gubbio Soccorso E non solo Con quei contributi L'azienda promotrice Eventi sociali ci pagherà quello che è il costo di manutenzione Che è un costo importante per un mezzo che fa tanti chilometri Ci pagherà il cambio gomme Ci pagherà tutti i costi assicurativi Compresa la casco Quindi per noi è un pacchetto completo E 4 anni sono tanti Anche per le aziende che aderiranno E già so che alcune hanno aderito e le ringrazio Anzi in 10 giorni da quando è iniziato questo progetto Di fatto abbiamo già quasi coperto oltre il 30% dei contributi Questo è un buon segnale Li ringrazio E queste aziende avranno comunque una visibilità sociale Nei 4 anni perché il mezzo andrà in giro per tutta l'Umbria A Gubbio soprattutto E quindi comunque c'è anche un riscontro tecnico Diciamo per loro Con il mezzo ovviamente Sì cercheremo anche di aumentare i servizi Perché il mezzo è un po' il 50% di quello che ci serve L'altro 50% sono i volontari Che poi devono utilizzarlo Ecco con l'occasione Mi piacerebbe anche un po' Invitare Chi ha interesse per questo settore di volontariato A venire a conoscerci da vicino Perché poi Tanti fanno volontariati In altri settori Perché si sentono più portati su altri settori Giustamente Il modo migliore Per vedere se il nostro Può essere adatto alle esigenze E al tempo di ognuno È quello magari di venire a conoscerci Noi facciamo due Come dicevo prima Due grandi attività Il trasporto sanitario Che significa Che significa Visite mediche Dimissioni ospedaliere Per conto dell'ASL Umbria Facciamo Trasferimenti Trasferimenti ospedalieri Per conto di un'importante clinica privata La Prosperius Di Umbertide Per i quali Per i quali Facciamo trasporti Anche fuori regione E questo per rimanere Un po' nell'ambito Sanitario Dove anche qua Si può fare Volontariato Mezza giornata Tre ore Un intero sabato Siamo molto flessibili In base a quello che Un potenziale volontario Ci chiede di poter fare Noi possiamo dargli Il pacchetto Che vuole Che vuole Finora quanti volontari Però ruotano Attorno alla Lugia Il soccorso Sono comunque tanti E però non sufficienti Come dicevi giustamente Esatto Ludovica Sì Nell'arco Dei 30 anni Si sono Mossi Tantissimi Volontari Oggi abbiamo Una lista Più o meno Di 40 50 persone Ovviamente Con disponibilità Differenti Ci sono Persone che hanno iniziato Da tanto tempo Alcune Che si stanno Interessando Io personalmente A chi conosco Cerco di spiegare Un po' Quello che facciamo Ma proprio personalmente Più che Con social Perché poi Si rischia di essere Dispersivi E quindi Per rispondere Al numero Diciamo Una quarantina Di volontari Con disponibilità Differenti Ce ne sono alcuni Che sono qua Da moltissimi Da moltissimi Anni Però Ovviamente Come dicevo prima C'è anche Bisogno Di un po' Di un rinnovamento Fisiologico Perché Parliamo anche Di pensionati Che hanno comunque Impegni Familiari E a volte Noi li chiamiamo E non possono Quindi Gianmarco Dicevi Scusami che ti ho Interrotto Ma uno dei servizi È quello per l'appunto Del trasporto E del trasferimento Ma voi Svolgete anche Il ruolo Diciamo così Di taxi sociale Ecco Che significa Anche questo Lo abbiamo fatto Lo abbiamo fatto Era una Diciamo Un progetto Che partiva Dai fondi Del PNRR Tramite I quali Persone Potevano Aver diritto A dei ticket Gratuiti Di taxi sociali Di taxi sociale E Queste persone Si potevano Rivolgere A Associazioni Volontariato Convenzionate Tipo La nostra Quindi ci chiedevano Un trasporto Qualsiasi Ci pagavano Tra virgolette Attraverso questo Ticket Di taxi sociali Che poi Noi Rindicontavamo Al comune Che faceva Da tramite E L'abbiamo fatto Fino a inizio Anno 2024 Volevo finire Quello che dicevo Prima Su quello Che facciamo Anche per Magari Per chi si può Sentire più adatto Eventualmente Ad accrescere La nostra squadra Di volontari Il discorso Sociale Il discorso Sanitario Comprende anche Un altro servizio Molto importante Che facciamo Tutti i giorni Che è il trasporto Per la radioterapia Che di fatto Lo facciamo Gratuitamente Con un contributo Del comune E dell'associazione Per la ricerca L'AIRC Associazione Gubbina La lotta Contro il cancro Esatto Che contribuiscono E noi Mettiamo Il dipendente L'autista Tutte le mattine L'autista E il mezzo Tutte le mattine Per fare questo Servizio Che è anche Una cosa Utile E Importante Quindi si sposta Diciamo Da Gubbio Dai pazienti di Gubbio Si spostano Ad esempio Per Perugia Immagino Per Città di Castello Città di Castello Quella è la nostra Destinazione E Il pacchetto Tra virgolette Sanitario Si completa Con la nostra presenza Anche agli eventi Sportivi Quindi parliamo Di Ieri Il primo maggio Eravamo Alla passeggiata Dell'associazione Diabetici Ma facciamo Un po' di tutto Siamo presenti Alle partite Di rugby Siamo presenti Alle gare ciclistiche Abbiamo fatto Il karate Quest'anno Il pattinaggio Faremo Il tiro Con l'arco La presenza Il presidio Sanitario È un presidio Sanitario Che richiede Per chi lo vuole fare Dei Dei requisiti Ovviamente Come patente È sufficiente La normale Patente B Servono Dei requisiti Delle capacità Delle esperienze In campo sanitario Ma anche su questo Abbiamo in cantiere A breve Di avviare Dei corsi Di formazione Ramo 2 È il discorso Invece Sociale Dove Lì I requisiti Di fatto Non servono Perché facciamo Semplicemente Trasporto Di Disabili Bambini Anziani Principalmente Dentro Gubbio Con 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 la convenzione Del comune In questo caso Che di fatto È l'altro Nostro Datore di lavoro Insieme a Asle E clinica Privata E cliniche private E qua Facciamo Un trasporto Abbastanza Standardizzato Abbiamo Le convenzioni Con il comune Per Trasferire Per Accompagnare Gli anziani Presso il centro Alzheimer Tutte le mattine Tutte le sere Li riportiamo a casa Stessa cosa Per i ragazzi Disabili Del centro Aldomoro Che Mattina E pomeriggio Vengono accompagnati Da casa Al centro E viceversa Anche questo È un settore Che Ci occupa Molto Moltissimo Tempo E quindi Diciamo C'è un po' Un po' Di tutto Il volontario Che arriva Può Può fare Un'ora Può farne due Può darci Una mezza giornata Intera Perché C'è flessibilità Da questo punto di vista Che è anche Un vantaggio Sicuramente Ecco quindi L'invito A maggior ragione Perché insomma L'ambito Il range Di attività Sono come detto Variegate Non è che si deve Per forza salvare La vita A qualcuno Speriamo insomma Che non ci sia La circostanza Per cui questo Dovesse Accadere Però ecco Come detto Insomma Anche magari Chi pensa Di non essere Particolarmente Portato In realtà Può trovare Comunque La propria Dimensione All'interno Dell'associazione Tu come L'hai trovato Ormai Sei presidente Da circa 6-7-8 mesi Ma come ti sei Avvicinato A questa Questa realtà Io sono qua Come volontario Dal 2012 Quindi da Parecchi anni E anche io Ho dato Per tutti questi anni Una disponibilità Piccola Però costante Perché poi Per chi fa i programmi Avere una certa costanza Negli orari È fondamentale Quindi ho conosciuto L'associazione Proprio perché Mi interessava Il settore Del volontariato Ma in particolare Questo Perché di fatto È Semplice Si tratta Di guidare Un mezzo O di accompagnare Chi guida Poi era Consono Con i miei impegni Proprio perché Se non potevo andare La mattina Magari andavo Il pomeriggio Se non potevo andare Oggi Andavo la settimana Prossima A ruota Riuscivamo Più o meno A venirci incontro Poi Quindi questo L'ho fatto Per parecchi anni Poi Da un paio Da anni Forse tre Sono diventato Consigliere Con la vecchia Presidenza E poi A settembre 2023 Abbiamo Rinnovato Il consiglio Insieme a me Ci sono altri Quattro consiglieri Il vice presidente Andrea Mercorella E gli altri tre Consiglieri Che sono Paolo Anuti Maurizio Cecchini E Vanessa Fugnanesi Noi cinque Siamo Esperti di Rubio Soccorso Come volontari Perché siamo Qua da parecchio Tempo A livello amministrativo Ci siamo da 6-7 mesi Come hai detto tu E in questo In questo ci stanno dando Una grande mano Proprio i due Ex presidenti Che sono Valentina Panella E soprattutto Enrico Mattiacci Che è anche Uno dei fondatori Che ringrazio Per tutto il tempo Che ancora ci dedica Lui è stato anche Per tanti anni Presidente Diciamo È un po' La figura Simbolo Infatti Credo che Anche le varie Realtà con cui ci interfacciamo Comune Asl Eccetera Hanno Giustamente Tuttora Lui come punto Di riferimento Perché Trent'anni Sono una cifra Sei mesi Di nuova amministrazione Siamo una matricola Ecco Da questo punto di vista Però Questo meccanismo Che è Rubio Soccorso Questa struttura Ci teniamo tutti A farla crescere Perché so Che ha fatto Tanto Per la comunità In questi In tutti questi anni Quindi Molti Si sono appassionati Al volontariato Anche Vedendo l'utilità Che poi Crea Perché Di fatto Anche un semplice Privato Che non ha nessuna convenzione Non ha Taxi sociale Non ha nulla Ma semplicemente Ci vuole Chiamare Per Una Una visita Ma anche per fare la spesa O andare a comprare Un farmaco Lo può fare Ecco Su questo Gianmarco Infatti ti chiedo Quali sono Le principali richieste Che vi arrivano Che tipo di richieste Vi arrivano E te lo chiedo In particolar modo Soprattutto guardando Agli anziani Quali sono le esigenze E anche le difficoltà Per territori come i nostri Non con facili collegamenti Con una popolazione Che come dicevo prima Cresce Sempre di più In cui purtroppo I servizi Vengono meno Ecco Quali sono le principali Difficoltà E richieste Che vi vengono avanzate Sì Queste ce ne arrivano Molti richieste Infatti Perché come hai detto Tu La popolazione Tende ad essere Particolarmente Anziana Ci chiamano Abbiamo un numero Fisso Della sede E ci chiedono A volte Di anche andare A visitare Un parente Perché magari Spesso Un anziano È solo È marito È moglie O magari Figli e nipoti Sono fuori per lavoro Proprio non possono Ci chiedono Di essere Trasportati Noi non lo facciamo Come un'attività Commerciale Questa È puro volontariato Loro ci danno Un piccolo Contributo Per carburante E manutenzione E costi Diciamo Dell'associazione E dopodiché Andiamo A prenderlo Li accompagniamo Aspettiamo Che finiscono La visita E li portiamo A casa È difficile Come servizio Noi vorremmo Dire sì A tutti Ma Non ci riusciamo Attualmente Non ci stiamo Riuscendo Ovviamente Nel momento In cui Diciamo sì Dobbiamo Poi realizzarlo Il servizio Quindi Preferiamo Magari Essere sicuri Prima di Avventurarci Nel dire sì A tutti L'altra difficoltà Come dicevi tu È dovuta Al fatto Che Il territorio Eubino Se non sbaglio È tra i più estesi D'Italia Credo tra i primi Dieci Come estensione E Questo per noi È una complicazione Perché Comunque Magari Pur rimanendo In zona Ma i chilometri Sono Sono tanti Sono tanti Sono tanti E Gli orari Devono Devono Coincidere Se no Si rischia Di far tardi Poi la nostra Giornalmente È una catena Di servizi Sbagliare su uno Che capita Purtroppo Significa far tardi Poi su tutti Quelli che vengono Dopo E allora Avere Carte Come un mezzo In più Come un volontario In più Può fare la differenza Può fare la differenza Certo Progetti per il futuro Oltre a quello Di cui abbiamo parlato Prima Muoversi E non solo Che Come anticipato Condurrà La donazione Di un nuovo mezzo Di un SUV Performante Diciamo così Insomma Per La Gubio Soccorso Ecco L'appello Alle aziende E ai volontari L'abbiamo fatto Ma i prossimi Obiettivi Dell'associazione Quali sono I prossimi Obiettivi È quello Genericamente Direi Quello di Accrescere Il più possibile La qualità Dei servizi Perché poi L'utente Che viene con noi Per lui Non siamo Un semplice autista Siamo Anche Dei Confidenti In un certo senso Abbiamo Un aiuto Quando possiamo Anche nello smistare Banalmente Accompagniamo Un anziano A fare una visita Deve prendere Un altro appuntamento Non sa come farlo Muoversi dentro Il Silvestrini È come muoversi Dentro una grande città Per un anziano Che comunque Non è al passo Con la tecnologia Si muove male Ci chiede Magari Anche un consiglio Su come prenotare La prossima visita A chi rivolgersi Se al medico di base Se chiedere Lì all'ospedale Tutte queste cosine qua Che ci fa stare Quelle due ore Tre ore Con il paziente Proprio come Un familiare Di fatto E questo È quello Che Vorremmo avere Il tempo Di fare Con tutti Poi a livello Più concreto Stiamo cercando Di mettere in cantiere Appunto Dei corsi di formazione Per Invitare persone Che vogliono avvicinarsi A questo mondo Stiamo Stiamo cercando Di Programmare Visto che sta arrivando L'estate In quali Eventi Essere Presenti Perché ci sono molte feste Che tutti i fini di settimana Ci chiedono E quindi stiamo Mettendo mano A personale E organizzazione Generale Per Da qui Alla fine estate Per essere presenti A quasi tutti Gli eventi Regionali Che Ci saranno Insomma Da fare ce n'è tanto Quindi Ecco L'invito Allora Davvero A conoscere La Gubbio Soccorso A cercare di dare Per quanto possibile Insomma Il proprio contributo A una bella associazione Che tanto fa per il territorio Noi abbiamo esaurito il tempo A nostra disposizione Ti ringraziamo Gianmarco Serbassi Presidente della Gubbio Soccorso Per essere stato con noi E per averci raccontato Questa bella realtà Tutti voi Buon lavoro E grazie anche a voi Che ci avete seguiti Qui chiudiamo il caffè di TRG Grazie per l'attenzione E buon proseguimento di giornata Ma cosa hai messo nel caffè Che ho bevuto su da te C'è qualche cosa di diverso Adesso in me Se c'è un veleno morirò Ma sarà dolce accanto a te Perché l'amore che non c'era Adesso c'è Se c'è un veleno morirò Ma sarà dolce accanto a te Perché l'amore che non c'era Adesso c'è Na-da-di-dai-dai-dai-dai-dai Adesso c'è un veleno morirò